Colpiti per motivi diversi ma drammaticamente connessi. Uno ucciso Albi perché non aveva mantenuto la promessa trasportare nel mare sudamericano qualcosa di proibito, forse latitanti, forse droga, in cambio di denaro in parte già ricevuto che doveva servirgli per un grande business fuori dai confini italiani a Londra. L'altro cavallito, ferito, perché era stato lui a presentargli Albi che a un certo punto il presunto mandante deve aver bollato come inaffidabile senza appello. Il calabrese Natale Ursino sarebbe il presunto mandante dell'omicidio di Walter Albi e del tentato omicidio di Luca Cavallito. L'esecuzione, avvenuta in un bar della strada Parco, scosse profondamente la pacciosa Pescara Agostana. Protagonisti della storia quattro uomini, quattro profili diversissimi, Albi il più estraneo ai giri malavitosi eppure forse il più temerario, visto che era pronto ad osare laddove nemmeno Cavallito voleva avventurarsi, al punto da offrire in cambio a Ursino un appartamento per svincolarsi dall'affare e rifarsi una verginità agli occhi del calabrese. Ma una parola data in certi ambienti può fare la differenza tra la vita e la morte e così la condanna emessa dal presunto mandante è in perfetto stile in drangheta e viene eseguita nella maniera più esemplare possibile, sfrontata in pubblico plateale da uno che a sparare non si fa problemi e che i suoi agganci con la mala, locale e non, ce li ha e come Cosimo Nobile, detto Mimmo, arcinoto alle forze di polizia di Pescara. Ad avere scatenato tutto è stata probabilmente l'ingenuità di Albi che ha pensato di poter governare qualcosa di molto più grande di lui, come conferma il questore di Pescara Luigi Liguori, che facendo anche alle frequentazioni di Mimmo Nobile. Il mandante calabrese e l'esecutore materiale è un pescarese, è un pescarese legato a contesti di rapine di un certo livello, è stato anche detenuto col calabrese, è un soggetto molto molto importante legato a sua volta ad altri soggetti collegati alla banda Battestini, quindi stiamo parlando di personaggi di grandissimo spessore criminale. L'unica nello debole della catena era proprio Walter Albi, che era di fatto un professionista che era interessato a delle operazioni finanziarie anche nell'ambito di attività amministrative qui nella città di Pescara, il quale evidentemente era entrato un po' in un loop di bisogno di denaro, per cui chiedeva denaro in continuazione per una presunta operazione che doveva andare a buon fine a Londra. lui ci ha rimesso molte decine e centinaia di migliaia di euro e chiedeva soldi un po' a tutti e l'ha chiesto anche alle persone sbagliate.